Non è che non scendavamo in Sicilia a spazio? Un anno o due anni? Due anni, eh? Però spieghiamo una cosa così poi non scrivono quando non veniamo e non si decide noi dove si va a suonare purtroppo è un po' più difficile venire qua ma ci arriviamo e c'è la gente numero uno in Italia Grazie alla vostra richiesta, alla pagina che avete fatto su Facebook siamo riusciti ad arrivare qui anche grazie alla Barley Arts e, senti, bello il laser però anche un po' rotto i coglioni anche perché poi abbiamo paura che dopo il laser ci arriva un colpo di pistola quindi, cioè, lo meno che Comunque ragazzi, grazie di averci voluto così fortemente qui noi ci sentiamo a casa e noi siamo stati spaccati Grazie di averci voluto così fortemente Grazie di averci voluto così fortemente Uno di noi E anche uno di noi Questa è per tutti voi ragazzi Bravo! Grazie di averci voluto così fortemente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti